L'investigatore 3 Le persone importanti le mettono capo tavola Guarda che belle ragazze Non mi dire che sei stato sfortunato stasera Guarda qua, che belle donne Vito tesoro, ciao Ciao Claudio Ciao a tutti Questa non è una foto Questo è un video Scrivete il numero 152 Grazie Ciao Ciao Grazie a tutti.